La collezione civica di Chiedi di Torino che ha creato le fondamenta del primo museo di Paiberati. Abbiamo inoltre una sezione della Cateria di Bologna nel corso di decorazione tenuto dalla professoressa Vanna Romualdi, dove si insegna scultura cestile. Tre degli allievi di Vanna Romualdi, che oggi è più presente, saranno scoperte, sono state unitate. Questo è l'avventura Roma, dove io insegno, insegnato, alla scuola delle arti ornamentali del comune di Roma, e tuttora si insegna la tralegna internazionale di mode, costume e coecchia. Ma non dobbiamo identificare che il motore fondamentale che l'archia, protegge e valorizza la Paiberati è l'Associazione delle Arti Eccidi di Montreale d'Arcinina, in provincia di Bordenone. Da vent'anni questa associazione, fondata da Gina Morandini, anche lei è artista che fa la unità da tournè, prende in tante cura eventi di cultura e arte cestile. Mi allaccio a questa notizia per ricordare che sono stati invitati a tournè anche una decina di artisti selezionati dal Premio Internazionale d'Arcinina di quest'anno. In qualità di co-curatrice di questo premio, a Gianni Morandini, col piacere di sottolineare questa sinergia che si è creata grazie alla presenza di Caterine Mandelbröck che è stata da noi invitata in qualità di testimonial per la mostra del premio e che ha partecipato al professionale convegno sul futuro dell'insegnamento dell'Arte e Tecnico del Pariderato. In chiara di personaggi, posso dire che questi trent'anni e più che ho dedicato al Pariderato, sono giunti con questa straordinaria partecipazione nazionale a donarmi una particolare certificazione che voglio condividere con tutti i paesi con cui ho lavorato, spalla a spalla, idealmente così fatto, come di innamorandini e di socappone, i miei alieni, più critici, le gallerie che hanno perduto il nome. L'Ungarità è la prima. Tutti gli artisti che lavorano in Italia, che sono riconosciuti dall'internazionalità, hanno trovato la propria strada da soli. C'è importante per voi che gli artisti italiani vengono a girare? Le artisti che vengono a girare sono importanti. Non c'era il senso della mia question. Per gli artisti italiani, questa triennale è qualcosa di importante per voi? Per voi, per gli artisti italiani è importante oggi essere invitati a questa triennale? C'è molto importante per gli artisti italiani essere invitati alla triennale. Conosco la triennale di Tournel, la conosco come Fama e sono molto contenta di esserci quest'anno. Tutti gli artisti italiani